carissimi amici amanti di transformers benvenuti a questa nuova video recensione per la linea combiner wars qui oggi abbiamo fire flight e no aspetta perdono scusate firefly e che cazzo asbro che mi combini soci ma ti fai ciolare tutti i diritti dalle tasche non si può mica andare amati così comunque fire flight forse è sempre stato il più anonimo degli aerial boats non in senso dispregiativo perché vabbè c'era almeno per me di peggio in slingshot però solo non ha mai spiccato né come personaggio né come modello sovrastato i tempi del g1 dai due ragazzacci skydive e air raid e lui in fondo del resto era un vecchio f4 che poco poteva con i nuovi ed appariscenti f15 ed f16 ma ad oggi è forse giunto il momento del suo riscatto andiamo a vedere potrebbero esserci sorprese prima però dell'unboxing ricordiamo che trovate questo firefly così come gli altri combiner della classe deluxe attualmente tra i 18 e i 25 euro a seconda di quale catena e negozi lo acquistate ecco qua caro il mio fire flight o far fly come ti chiamano adesso ti ricordi come ci siamo lasciati giusto una manciatina di anni fa tu eri l'aereal boat di mezzo né quello top e nemmeno il peggiore eri un f4 un po vecchiottello il colore sì certo rosso fuoco sfolgorante ma era molto giocattoloso non ti favoriva comunque devo dire che così a primo occhio fai comunque una bella impressione verniciatura bianca forse un pelo neutra ma bella lucida bella lucida consistente i particolari colorati sono al posto giusto anzi belle queste griglie simulate alle ginocchia poi chiaro come intravisto se ti giriamo c'è l'aerozaino sicuramente un po si fa sentire anche davanti è vero ma è pieno comunque se ci guardiamo di spunzoni di alette che gli danno comunque una certa dinamicità a guardarti insomma ecco caro far fly sei il primo tra appunto i piccoli aerial boats a presentarsi e a dimostrarci che questa generazione di combiner wars svecchia molto bene i g1 ma rinnegga forse un po troppo la vecchia scuola come beh appunto ad esempio non presentando il jet diciamo mini sulla schiena come era appunto nei g1 ed era una piccola kick che però così dava maggiore giustificazione anche allo scarso disguise diciamo così al contrario cioè in cui si vede appunto il jet però proprio tu far flight hai una gimmick involontaria voluta ma è fatto sta che se ti mettiamo così vuola superman ecco così che l'aereo sovrastante torna ad avere maggiore senso anche in forma robotica e questa è una cosa comunque tua fire flight perché il potere appunto tirare in su la testa a questo modo è una cosa che probabilmente tra gli aerial boats diciamo degli arti hai solo tu quindi questa gimmick ti avvantaggia personalmente e comunque è bello anche vedere sia in quella modalità da superman sia comunque anche da robot si notano questi cannoni alla starscream sugli avambracci è un particolare accennato ma un'arma integrata in più fa sempre piacere e comunque direi che sei ben piazzato muscoli spalle alte davvero davvero un'ottima posabilità e anche lo sculpt della testa sebbene questa leccata di bue non mi esalti comunque la scultura e questo sguardo convincente ne fanno comunque un buon head sculpt infine veniamo alle armi si tratta di un lancia fiamme vediamo i condotti qui sotto discretamente scolpito si infila così sicuramente ha un'ottima portabilità e il solito padellone con cosa in questo caso un doppio lancia granate comunque far flight dimostri tutto sommato di poterlo sostenere per la stazza anche se come al solito secondo me la tua forma sta benissimo in questo modo facciamo qualche piccolo confronto questo è un altro suo collega alfa bravo appunto qui invece abbiamo il loro leader infine prendiamo giusto per avere un altro riferimento un deluxe di questa gamma ma un beast wars per tornare appunto a ribadire come questi sono soggetti tosti sebbene magari leggermente semplificati nelle giunture nei collegamenti però comunque molto molto solidi mentre al contrario questi appunto hanno molto esoscheletro che facilita poi se uno vuole la loro muovibilità insomma sulla forma robotica in fondo nulla da dire è decisamente ben scolpito ben dotato e quindi direi si tratta di un ottimo pezzo attenzione quindi allora che questo far fly non ci riservi qualche colpo di scena ma ora TRANSFORM la trasformazione in aereo è relativamente semplice solo il collassamento interno delle gambe richiede un attimo di attenzione oltre ad una certa simmetria negli attacchi di tutta la parte posteriore far fly autorizzato all'atterraggio e che cavolo ma la prossima volta vedete di dotarlo anche delle ruote posteriori non solo del carrello anteriore ma si cavolo guardate qua già gli fate una buzza da alcolizzato a sto qua ma le ruote dietro dove sono finite lo so è vero che alle eventuali ruote fisse magari ingombranti nella fase di volo preferisco insomma che non ci siano e che magari sul muso ci sia appunto un carrello estraibile per avere una forma filante insomma però dare la posibilità con sti due pezzi di marmo cioè sì ok che ci sta però perché sta posato così però vabbè ma aspetta un momento ma ora che ti guardo meglio ma cazzo tu hard flash è diventato un harrier pensavamo di essercene liberati con la sostituzione di slingshot e invece tu ne hai preso le sembianze ma porca ok dai scherzi a parte in effetti mi ha stupito questa sorta di passaggio di identità aeronautiche sebbene si tratti infine di un harrier tutto sommato modernizzato modernizzato quindi sempre come al solito un vago ibrido per poi chissà magari anche non pagare diritti e quant'altro ma allora quasi ti si potrebbe giustificare il fatto che tu non abbia i carrelli posteriori e magari decollando in verticale questi potrebbero essere considerati appunto i rettori di spinta per il sollevamento congetture a parte devo ammettere devo ammettere che maneggiandolo sono rimasto un po' deluso dalla forma alternativa principalmente soprattutto per quanto si allarga questa questa pancia perde perde un po' così di aerodinamicità decisamente però vabbè non in modo così grave insomma si viste di ben peggio però un po' un po' ce l'ha e poi la verniciatura beh certo se al rosso e dalla fedeltà della correlazione G1 non può appunto essere mosso un plauso la scelta del cromatismo continua secondo me a dargli un look piuttosto giocatoroso senza contare appunto che poi la cabina in argento non mi ha dato per nulla vibrazioni positive per la colorazione poi c'ha un po' quasi anche di distacco poi vabbè inquadrato da sopra e anche dal davanti si notano tutti i particolari scolpiti dell'aereo mentre sotto beh vabbè si è fatto quel che si è potuto e le geometrie hanno comunque concesso all'aereo una discreta discreta silhouette ovviamente braccia a parte che si manifestano un po' troppo esplicitamente da sopra all'aereo non collassano all'interno come erano nei cari vecchi G1 comunque nonostante i difetti elencati e la citata un po' delusione per come l'avevo visto inizialmente dalle immagini quindi non fraintendetemi non ho un giudizio negativo della versione aereo è solo appunto che da queste immagini mi aveva dato un'eccelsa sensazione ora invece è solo un po' più ridimensionata non dimentichiamo le armi beh sì le armi come al solito in questa versione valgono per quel tanto perché ci fosse una certa simmetria in qualche modo si potrebbe giustificare ma ovviamente il padellone altro che cioè sarebbe un tank non un aereo è una roba che trasporta questa roba qui quindi come al solito per godere al massimo della loro sinuosità è molto meglio appunto lasciarli senza le armi robotiche un'ultima serie di confronti questa è il suo compagno però in forma di elicottero direi che più o meno sono grandi uguali ovviamente uno più stretto e leggermente lungo l'altro più largo mentre il loro capo eccolo qua si insomma c'è il giusto e discreto la giusta e discreta differenza con questo mitico silver bolt e infine per avere riferimento con un'altra serie questo è un beast war sempre deluxe sound wave certo qui abbiamo appunto una larghezza forse anche lunghezza leggermente maggiore però qui è tutto compresso e tozzo qui invece è tutto slanciato e largo per vedere articolazioni ovviamente visto che ci siamo citiamo anche l'altro piccolo oggetto contenuto nella scatola che è la solita card che non serve assolutamente una cippa e di cui sebbene disegnata bene ve ne potrete dimenticare presto in definitiva farfly pur verificandomi l'arrier a tradimento la tua forma alternativa non mi dispiace rimane il discorso della palette di colori e beh lì però si va a gusti del resto sei cicciotto però guardandoti bene preservi secondo me una buona scultura insomma abbastanza per farti apprezzare magari vedremo non per farti del tutto svettare mentre adesso vediamo in velocità le ultime trasformazioni gamba a braccio ma giusto una cosa velocissima perché tanto servono più per il combiner trasformare farfly in gamba o braccio è facile e segue più o meno gli stessi passaggi della trasformazione in aereo cambia solo il posizionamento delle braccia del robot dietro la schiena nella trasformazione in braccio di superi oltre ovviamente all'attacco al combinabile maggiore 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 Passare invece da aereo a robot è ovviamente più semplice del contrario, occhio solo a quando si fissano le ginocchia. Eccoci quindi a tirare le somme su di te Farfly, se è un buon modello beh su questo direi non ci sono dubbi, belle entrambe le versioni e discreta anche come abbiamo visto la trasformazione, solo che mi sa che in particolare per via della forma alternativa rispetto ad altri magari solo discreta ti fermi qui nelle posizioni diciamo intermedie dello squadrone Aerial Boats, quindi né top né flop, ma in definitiva potremmo accertarcene solo con le prossime recensioni dei Combiner Wars. Amici alla prossima, ciao! Facialgia Facialgia Grazie per la visione!